Io penso che questa tecnica sia una tecnica innovativa e che la si possa estendere a qualsiasi tipo di paziente, infatti non vi è al limite d'età. Nella casistica personale infatti sono stati trattati pazienti con l'età compresa tra gli 18 anni e gli 83 anni, non vi è nessuna limitazione di patologie che possono controindicare l'uso di tale tecnica, l'unica controindicazione è danni cartieragini che superano i 4 cm di diametro come lesione e pazienti che siano allergici al chitosano. Il chitosano è una proteina che sta nei crostaci e che è usata nell'idrogel per dare una struttura morfica al sistema scaffold che poi sarà il terreno di cultura per la cellula estaminale che vengono estratte dal ginocchio mediante le microfratture.